buongiorno a tutti oggi mi trovo a massagno quello che vi sto per far vedere un bellissimo appartamento appena ristrutturato all'ultimo piano come potete vedere è servito dall'ascensore entriamo alla mia sinistra abbiamo un grandissimo armadio a muro ripeto che l'appartamento è stato completamente ristrutturato sulla mia destra abbiamo una prima camera da letto singola ideale per un figlio come studio o come ufficio o come locale hobby corridoio continuiamo abbiamo il bagno completamente ristrutturato come potete vedere completo di vc grande box doccia lavandino con mobiletto specchiera e la finestra tornando in corridoio accediamo al soggiorno giorno molto grande come potete vedere con l'uscita sul balcone da questa parte abbiamo la possibilità di installare la sala pranzo e sulla destra separata abbiamo la cucina anche qui la cucina è completamente nuova completa di frigorifero congelatore lavandino vetro ceramica forno lavastoviglie cappa cucina è bianca e moderna usciamo in balcone abbiamo un piccolo balcone questa è la vista ripeto sono a massagno vicinissima alla stazione quindi ideale per chi si sposta spesso in treno ed accediamo alla camera da letto quindi questa seconda camera da letto singola un po più grande della prima accanto abbiamo la camera da letto matrimoniale quindi in totale in questo appartamento abbiamo tre camere da letto due singole e una matrimoniale torniamo ancora in soggiorno e infine accediamo al balcone questa volta la vista è veramente bella possiamo ammirare tutta lugano possiamo vedere anche il lago come potete vedere se vi è piaciuto questo appartamento e volete venire a vederlo dal vivo chiamateci subito ti affitto